Nel 2015 furono al centro di un lungo dibattito sulla liquota da applicare. A 5 anni da quel dibattito la nuova amministrazione, guidata dall'avvocato Giovanna Bruno, ha provveduto ad inviare oltre 26.000 avvisi di accertamento IMU e Tari agli andriesi. Un atto dovuto per non far prescrivere il credito che il comune vanta verso i cittadini che non hanno pagato le tasse comunali e la cui mancanza avrebbe comportato un enorme danno erariale. L'invio in extremis di queste cartelle esattoriali ha portato con sé qualche errore di notifica, errori cui si può rimediare con il nuovo sistema chiamato LinkMate, piattaforma telematica dello sportello Ufficio Tributi che si raggiunge connettendosi al sito internet del comune di Andria. L'amministrazione deve essere considerata amica nel percorso di regolarizzazione delle posizioni perché noi siamo consapevoli di quanta confusione tributaria, fiscale, contributiva si è creata nel tempo ma siamo qui per questo, bisogna mettere ordine. LinkMate è uno dei servizi compresi nel nuovo software di cui la città di Andria si è dotata nei mesi scorsi. Ci si può facilmente registrare, presto vi si potrà accedere con l'identità digitale e a stretto giro ci sarà anche una app. C'è stato il passaggio graduale ad un nuovo software, ad un nuovo gestionale, quindi questo nuovo software tra i vari servizi, tra le varie funzionalità prevede anche questo tipo di servizio. Le cartelle errate, spiega l'assessore Tammaccaro, sono in numero molto limitato. Gli errori sono dovuti all'allineamento tra il vecchio sistema e il nuovo sistema. Quello che dobbiamo tenere ben presente è che non è che qui abbiamo 27 mila avvisi fra virgolette sbagliati. Il grosso di questi avvisi comunque attengono a mancati pagamenti. L'ufficio Tributi è storicamente un vero tallone d'Achille per l'amministrazione di Andria. La scarsa capacità di riscuotere le tasse è in gran parte il problema economico della città di Andria. Dotarlo di un nuovo software era il primo passo necessario. Implementare e formare il personale dell'ufficio sono i passi successivi. In questo momento COSFEL ha autorizzato soltanto l'assunzione di un dirigente a tempo indeterminato che è proprio il dirigente del settore economico finanziario e anzi approfitto per darvi notizia del fatto che oggi pomeriggio, poco fa, è stato sottoscritto il contratto con il nuovo dirigente finanziario che entrerà in servizio a far data dal giorno 18. Al di là di questo che è previsto da COSFEL non possiamo autonomamente implementare il servizio Tributi, ma possiamo qualificarlo.